Credo che con il Colorado 1650 abbiamo l'opzione di poter fare il double-sided printing. Abbiamo un buon cliente che necessitano questo prodotto, quindi con il Colorado 1650 credo che questo sarà una buona avventura per noi. Questa scelta è perché in azienda già avevamo tre stampanti eosolventi, ma abbiamo visto che con questa qui può sostituire le tre stampanti facendo una qualità migliore, una velocità maggiore e oltretutto la possibilità di fare sia lucido che opaco e non laminare più. Il fatto che il fatto che può fare la matti finissi sulle prodotti e la gloss, serve una diversità. Alcuni clienti chiedono matti finissi, altri sono la glossi. With la glossi, hai avuto il beneficio di poter improntare una matti prodotti ed è quasi un sport varni, ma con la matti finissi è viceversa. so I think there's a lot of key advantages there. We have existing inkjet printers at MultiPrint but find the quality on the Colorado is far superior and look forward to seeing the machine truly in action. At present with the solvent machines the cost is very high. With the Colorado this cost will be significantly less up to a quarter of the cost.